E' altra cosa non si fa, non si fa, ma non si fa, non si fa, non si fa. Non risulta nessun ferito, non risulta nessun travolto. No, 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 no. Non ci sono rispetti. Non ci sono rispetti. Come sa che non la stavano rispondendo? Non so perché sta mattina. Non è arrivata una ambulanza? No, no, no. Avevano cominciato poi, come vedete, hanno lasciato tutto a metà. Avevano cominciato a mettere in sicurezza l'area? Eh sì, però di qua sembra di no. Di qua si... Quando hanno iniziato a fare questo lavoro? Questo era un paio d'anni fa. E poi hanno interrogato? Abbiamo giocato tutto e è rimasto così da lì. Dopo dovevano farlo tutto quanto, fino dietro. Qui sotto c'è stato quello che sta, se la dormì chissà se è uscito, se è passato a terra, lo faccio. Dicono che non risultano persone travolte. Lei sa se abitano qui delle persone? Stanno lì. Qui dentro al suo coso c'è un altro. Dentro questo coso qui elettrico qua, questa cabina elettrica, c'è un'altra persona. E te dietro c'è un'altra. Non so se sta fuori o è andato via. Abbiamo finito queste ricerche. E non ci sono persone travolte? No, non risultano persone travolte. Ma dobbiamo andare. Al prossimo episodio